Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, oggi affronteremo un tema che è ancora ad attualità perché quest'estate non ci vuole davvero lasciare, quindi le alte temperature e lo scirocco che c'è stato soprattutto negli ultimi giorni sono state quella miccia, quel mix letale soprattutto per i nostri boschi. Parleremo di incendi, parleremo della situazione dei nostri boschi, delle nostre campagne, lo faremo con una persona che lavora 24 ore al giorno su questo, che è Giovanni Salerno, dirigente generale del colpo forestale, ben trovato. Ben trovato a lei, grazie. Allora, che estate è stata? Scusi il gioco di parole, questa sul fronte agli incendi, anche se diciamo non è ancora conclusa. Nelle sciate come lei saprà, i cittadini sanno che sotto gli occhi di tutti è stata, ed è un'estate molto calda, dove le condizioni climatiche veramente non ci hanno aiutato, soprattutto nell'ultimo tempo. Allora se possiamo fare un primo rendiconto dell'attività in questi primi mesi, perché visto che ancora a quanto pare continuerà nelle sciate anche per il mese di settembre, diciamo che nella prima parte fino a metà o i primi dieci giorni di agosto, tutto sommato non abbiamo avuto grossi incendi, se non quelli che abbiamo ogni anno. Dalle 17 in poi invece abbiamo avuto un accentuarsi degli incendi, vuoi perché le condizioni climatiche, è chiaro, sono state veramente ai limiti, con temperature che capirà di 40 gradi, 42, con i venti, è chiaro, di scirocco che hanno alimentato gli incendi. Tra l'altra parte voglio dire, dobbiamo però essere anche contenti perché l'impegno veramente è stato tanto, sia degli operai che del personale del corpo, è che con l'aiuto anche e soprattutto del Coao di Roma e del sistema antincendio abbiamo cercato di fare fronte e abbiamo veramente limitati danni, possiamo dire di essere contenti di ciò. Quali sono i numeri delle aree devastate per corso dall'incendio quest'anno? Allora, come dicevo, abbiamo avuto quest'anno ad oggi, secondo quelli che sono i dati tecnici rilevati proprio ieri, abbiamo come superficie boscata percorsa dal fuoco circa 7 mila ettari che è la metà di quella dell'anno scorso. Se poi aggiungiamo che questi 7 mila ettari di territorio boscato deve essere ancora perimetrato in maniera dettagliata, che noi di solito lo facciamo, facciamo questa operazione nel mese di novembre-dicembre, diciamo che tutto sommato avremo alla fine circa 3 mila ettari di territorio boscato percorso dal fuoco, cosa diversa invece per quanto riguarda l'area di vegetazione, dove lì abbiamo 42 mila ettari di area di vegetazione percorso dal fuoco e anche questa area sicuramente quando sarà perimetrata con i droni e con i tecnici che entreranno in campo a fine ottobre sarà anche essa ridotta da circa un terzo. Per cui diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo sicuramente dimezzato, o perlomeno le condizioni generali hanno permesso che le aree percorso dal fuoco fossero la metà dell'anno scorso. Il corpo forestale in questi anni ha eseguito tutta una serie di studi anche su queste cause, dico che provo, perché ogni volta che c'è uno scirocco si incendiano 5-6 punti diversi, 3-4 punti diversi e si distrugge. Possiamo dire qual è la natura della stragrande maggioranza di questi incendi? Allora sicuramente è chiaro che alle condizioni climatiche si aggiungono poi, come giustamente lei fa presente, delle condizioni chiaro localistiche che fanno, tra l'altro essendo incendi che si ripetono negli anni, fanno giustamente pensare a quello che è l'intervento della mano dal fuoco e quindi che l'incendio sia di natura dolosa, addirittura colposa per certi versi, anzi soprattutto voglio dire per il 99% dei casi. Noi diciamo che quest'anno è chiaro che una delle cause principali, come lei saprà, è ormai l'abbandono dei terreni, l'abbandono dei terreni che è veramente ormai generalizzato e non interessa un'area piuttosto che un'altra, ma tutto il territorio siciliano e credo che una riflessione è assolutamente combustibile. Una riflessione bisogna farla sicuramente, per cui ecco possibilmente il piccolo proprietario coltivatore o l'allevatore è chiaro per pulire il terreno pratica, quella pratica sicuramente cerca nell'incendio la soluzione ai suoi problemi che sono quello appunto di renderlo poi percorribile per quanto riguarda gli allevatori, appunto del bersame. Solo che ogni volta si perdono il controllo dell'incendio, alcune volte muoiono. E da lì succede che purtroppo, ahimè, non ultimo, l'ultimo incendio che abbiamo avuto noi a Gulino, a Misimeri, abbiamo avuto che l'incendio è partito da un'area di vegetazione a valle e che poi è entrato dentro il bosco, che è a monte voglio dire. Questo significa veramente, se lei pensa che a valle l'incendio ha percorso circa 200 ettari, capirà che significa un incendio di quella portata. Ero personalmente lì presente, sì, quella nottata direi, anche oltre alla giornata e abbiamo dovuto far intervenire tutti i mezzi, compreso e ringrazio anche i colleghi della protezione civile che ci hanno dato una mano d'aiuto, perché siamo entrati direttamente nel bosco e con i PK che erano quelli adatti, tra l'altro, cercavamo di fare fronte e ci siamo riusciti. Perché erano sempre bisogna affrontare l'incendio all'auto. Assolutamente, i canader che sono stati presenti, voglio dire, non riuscivano a far penetrare l'acqua nel sottobosco, per cui era necessario intervenire dal basso e qui gli operai, devo dire, sono stati veramente all'altezza della situazione, devo dire grazie per quello che hanno fatto, perché hanno fatto un ottimo lavoro, veramente, se le pensa che alla fine abbiamo salvato veramente il bosco, perché di 700 ettari, diciamo, l'area percorso dal fuoco è stata di circa 100 ettari, quindi possiamo dire che alla fine abbiamo fatto un buon lavoro. Lei mi ha detto, ci è andata bene. Ci è andata bene, sì, rispetto alle condizioni originali, naturali, che sembrava, era veramente una situazione molto molto pericolosa e che devo dire che abbiamo fatto squadra. Avete canader a disposizione, elicotteri, però quello che mancano sono gli uomini, a parte le battute sul corpo forestale, diciamolo che i numeri non sono assolutamente idonei ad affrontare questa situazione. Assolutamente, assolutamente sì. Noi a fronte di 450 persone che abbiamo in divisa come corpo forestale, diciamo, il personale che opera direttamente sul campo e quindi svolgono l'attività di dossi, i dossi sono coloro i quali governano l'incendio, sono circa 300 per tutta la regione siciliana, capirete che veramente siamo ai minimi e c'è bisogno di personale. Ormai, voglio dire, l'abbiamo detto e lo ripetiamo continuamente. Anche questi 300 hanno già la loro bell'età, diciamo. Eh sì, c'è un'età molto avanzata delle persone che lavorano e c'è un'esigenza altrettanto forte che è quella di essere presente sul territorio, è chiaro, con energia, ma anche, voglio dire, con una certa presenza che non possiamo garantire con questo numero. Anche se poi, ecco, interveniamo con le squadre, però la governance che abbiamo sugli incendi e soprattutto il supporto che abbiamo avuto quest'anno con la convenzione che abbiamo fatto i Vigili del Fuoco, almeno abbiamo cercato, ecco, di, diciamo, di limitare i danni. Ecco, cosa che... Senta, però dico, ci sono quelli che affrontano questo tema sempre in maniera molto banale, dicendo che comunque ci sono migliaia e migliaia di operai, che sono un'altra cosa. No, assolutamente sì, ecco, voglio chiarire per l'esattezza. Allora, noi come antincendio abbiamo, secondo quella che è la legge 16, che dà garanzie occupazionali ai lavoratori sagionali che lavorano solamente per 101 giorni all'anno, capirete, 101 giorni all'anno, sono 5200 che lavorano dal primo di giugno fino a quando non esauriscono i giorni. Per cui intanto lavorano per solamente 101 giorni, quindi anche se sono 5200 divisi in tutta, sparsi in tutto il territorio regionale, non possono garantire, ecco, il governo o perlomeno la tutela del territorio, soprattutto in materia antincendio. Quindi non possono fare la vera prevenzione? Assolutamente sì, poi questi operai, anche essi, alla pari del personale del corpo forestale, anche loro è chiaro hanno un'età molto avanzata, un'età tra l'altro dove ogni anno si riducono sempre di più. Noi quest'anno a fronte di 5800 in dotazione organica ne abbiamo utilizzato 5.000, quindi ogni anno perdiamo circa 600 operai, che non è cosa da poco conto sicuramente. Questi operai dovrebbero fare prevenzione e quindi cominciare a lavorare febbraio, marzo? No, 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 la voglio dire che questi operai fanno solamente attività antincendio, invece gli operai che fanno attività di prevenzione non sono gli operai del corpo forestale, ma sono operai di un altro dipartimento che, diciamo, sono in capo al Dipartimento di Sviluppo Rurale. Operai che di solito, voglio dire, fanno prevenzione. E questi quanto sono? Ma loro sono molto di più, sono circa 18.000 e che dovrebbero fare prevenzione molto prima, solo che con le difficoltà magari finanziarie, difficoltà… E con i tempi del bilancio. E con i tempi del bilancio, l'attività di prevenzione poi è chiaro, la fanno da giugno in poi, cosa che… Quando già è tanto. Quando già purtroppo, ahimè, è anche… E su questo ci state lavorando? Allora, su questa vicenda, ecco, noi stiamo lavorando, stiamo cercando, l'assessore, voglio dire, hanno pronto una riforma, una riforma del, diciamo, di tutto il sistema forestale per fare in modo, ecco, di arrivare puntuale a quella che è l'attività di prevenzione, perché senza prevenzione, è chiaro, tutto poi diventa più difficile. Ma non servirebbe un coordinamento unico? Ma il coordinamento c'è, devo dire, però capirà, i tempi sono molto avanzati rispetto all'esigenza del territorio. Ecco, bisogna cercare, a mio modo, personale, anche di… Il prossimo governo, a mio parere, si dovrebbe e sicuramente si interrogerà, visto che affronterà il tema della riforma, come governare, ecco, tutta la vicenda del demanio regionale, magari anche attingendo ad altre formule, che non è solo quella della formula pubblica, nel senso di dare tutto in mano ai lavoratori, cosa che non ce la possiamo fare, ma cercando anche di apportare qualche novità nella governanza, nella gestione del demanio forestale. Che è molto, che tra l'altro è molto, molto grosso. Se lei pensa che noi abbiamo cinque parchi regionali, abbiamo, tuteliamo il parco di pantelleria, abbiamo molte riserve, abbiamo delle oasi. Cioè, a dire, veramente, abbiamo un patrimonio naturale che ha bisogno sicuramente di un'attenzione, diciamo, in maniera diversa rispetto a quella che è successo. A proposito di pantelleria, le conseguenze dell'incendio le abbiamo visto tutti, anche in tutta Italia e non solo. Sì, ma io direi non solo pantelleria, ma direi anche l'isola di Ciombole, che abbiamo avuto anche lì degli incendi che hanno devastato l'isola. Noi concorriamo a pantelleria, essendo un parco nazionale, concordiamo con le altre forze per tutelare il patrimonio. Anche lì, ecco, occorre, a mio parere, noi concorriamo tutto l'anno, siamo presenti tutto l'anno a pantelleria, ma siamo presenti anche in misura ridotta. Lì, è chiaro, si stanno mettendo in modo delle procedure dove anche il Comune, diciamo, sta attivando forme di collaborazione con il corpo forestale, con la protezione civile, per cercare… Lì c'è stato un problema di tempi, diciamo, per quell'incendio che hanno creato dei problemi. Non c'è stata una risposta immediata in quel caso a pantelleria, anche perché c'erano poche persone, diciamo. Sì, allora, per quanto riguarda noi persone del corpo, noi siamo in maniera molto limitata di presente, però debbo dire che lì hanno operato i vigili del fuoco, noi li siamo stati molto tempi e civili… Però li hanno dovuti portare con la nave, diciamo, con gli elicoltri, li hanno dovuti portare con i mezzi perché lì non c'è proprio un vero e proprio di staccamento, diciamo. Assolutamente sì, siamo limitati come forza sul territorio. Come succede a Ustica, come succede a Lampedusa, nelle isole, diciamo, le olie… E anzi, devo dirle che anzi, in alcune isole, grazie alla convenzione che abbiamo fatto con i vigili del fuoco, quest'anno siamo stati più presenti, perché con le nostre forze non ci consentono di essere presenti in tutte le isole. Il Presidente della Regione e l'assessore, voglio dire, abbiamo fatto con questa convenzione che, devo dire, è stata positiva, assieme alla protezione civile… L'ultimo incendio che c'è stato a Ustica l'hanno portato in elicottero con la polizia. Dico, questo è una delle ultime… perché non c'è nessuno, perché nemmeno i volontari ci sono più… E ci sono lì i volontari dei vigili del fuoco, che tra l'altro sono in misura molto ridotta e che all'interno anche lì hanno problema di volontari. No, nel senso che i volontari ci sono e dovrebbero essere strutturati alle convenzioni che non venivano fatte in maniera diversa. In maniera diversa. Senta, parliamo di un altro tema importantissimo, che è quello appunto, una volta ci sono gli incendi poi bisogna piantumare gli alberi e quindi bisogna fare progetti appunto per il rimboschimento. Un ruolo importante ce li hanno le province in queste azioni. Come si comportano le province? Allora, alla luce di quelle che sono le ultime misure dettate dal Piano Nazionale di Resilienza, ha dato questo piano alle città metropolitane, le province, ora voglio le città metropolitane e soprattutto a Palermo, Messina e Catania, ha dato la possibilità di finanziare e presentare dei progetti in alcune aree, non alcune aree, in tutti i comuni dell'isola, delle province, ecco, dove questi territori sono di proprietà del comune. E mi risulterebbe che ci siano molti comuni che hanno presentato domanda, ma purtroppo come tutte le cose, ecco, sono dei progetti che hanno bisogno di una, diciamo, di una sinergia e mi risulterebbe che anche l'università è in campo per aiutare i comuni e le province, dove le province, soprattutto quella di Palermo, ha, diciamo, attinto alla sinergia con il Dipartimento di Sviluppo Rurale. Noi, a dire la verità, non siamo stati chiamati, non lo so per quale motivo, però potremmo dare una grossa mano d'aiuto con la nostra professionalità in tal senso. Auspichiamo, ecco, che la provincia di Palermo, per esempio, ha avuto come primo anno circa 16 milioni di euro. E di questi ne sono stati spesi? No, di questi mi risulta che alcuni progetti sono in itinere, però molti comuni non hanno potuto partecipare perché non hanno adeguatamente presentato le carte, perché alcuni, addirittura avendo la proprietà comunale percorsa dal fuoco negli anni precedenti, chiaro, ha bisogno di alcune autorizzazioni che noi soli possiamo dare come corpo forestale. E non si è stati inseriti. E non siamo, alcuni comuni non sono stati inseriti, per cui auspichiamo, ecco, che siccome il programma del piano nazionale è triennale, quindi auspichiamo che quanto prima i comuni presentino a noi le richieste di autorizzazione. Quindi al momento questi 10 milioni ne sono stati spesi? No, in parte lo stato dell'arte, devo dirle che non sono conoscenza perché non siamo stati noi al tavolo, però in parte mi risulta che non tutte le risorse sono state impegnate. Quando invece c'è l'esigenza, ecco, di portare una ventata di nuovi, di rimboscimento, ecco, in alcune aree dove ormai... Ecco perché la questione del PNR è fondamentale, perché dico, bisogna, diciamo, attrezzarsi e bene per poter presentare dei progetti che siano compatibili, che siano legittimi. Sicuramente, non solo, noi con le nostre conoscenze e con i nostri esperti possiamo anche abbinare ai territori e con le piante necessarie per cercare di far convivere la pianta con quelle che sono le peculiarità del territorio. Per cui auspichiamo veramente che ci sia una, diciamo, che noi venissimo chiamati alla partecipazione di questi progetti. Penso a quegli alberi piantati dove praticamente ci sono le radici molto grandi che spaccano i marciapiedi. Esatto, per esempio. Come succede a Palermo, ecco, gli errori degli anni passati nella città di Palermo, diciamo, verificando ora che i marciapiedi sono tutti, chiaro, sollevati dalle radici, il che significa molto in fase di pianificazione e progettazione. Che non si può piantare un albero, si deve piantare un albero in quel punto perché li si può stare, perché li vive bene l'albero e non crolla, solo quello crollato adesso in piazza Massimo, sì, assolutamente sì. Allora, lei in questi anni che si trova appunto a governare il corpo forestale avrà fatto un piano, avrà un'idea chiara cosa serve adesso per migliorare il sistema e non trovarci sempre preparati. Sicuramente, noi quest'anno abbiamo fatto, che è innovativa, veramente abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo iniziato a fare un'attività di coinvolgimento del territorio in maniera tale che la materia dell'antincendo non diventi prerogativa solo del corpo forestale, perché gli attori del territorio non è solamente il corpo forestale, ma sono i comuni, sono appunto le associazioni datoriali, diciamo quelle agricole, ma soprattutto anche i cacciatori, perché ognuno è chiaro, con la loro presenza sul territorio può dare una mano d'aiuto. E abbiamo fatto diverse convenzioni che hanno dato dei frutti non indifferenti, oltre al fatto che poi noi come corpo abbiamo proprio in questi giorni rielaborato il piano regionale dell'antincendio, per quanto per gli anni futuri, dove abbiamo introdotto nuove tecniche e soprattutto legate all'utilizzo di tecnologia, voglio dire, tecnologia informatica e soprattutto legata all'utilizzo dei droni, che devo dire hanno dato fino ad ora un ottimo risultato. Non avere subito prontezza che c'è quell'incendio, non farlo più compare, e cercare di estinguerlo nel giro di pochissimo tempo. E quello che noi stiamo cercando di fare appunto è quello di essere puntuali a quelle che sono le chiamate dell'emergenza, che con il nostro 1515, tra l'altro anch'esso rivisitato, ecco ci permette di essere più pronti sui territori. Quindi tutta una serie di attività che sono legate anche all'implementazione dei mezzi che noi stiamo cercando di comprare, perché fino a quando abbiamo io l'altro giorno fatto un decreto, anzi proprio ieri, un decreto di impegno di somme per circa 25 milioni di euro per comprare mezzi nuovi. Tutto ciò però in conseguenza di una gara che abbiamo fatto e che noi spieghiamo che tutte quelle che sono le difficoltà di natura burocratica, lei sa benissimo, le editte fanno ricorso, TAR, CGA, e quindi ci permettono poi, voglio dire, queste cose ci mettono veramente in serie difficoltà. Per cui diciamo che per l'anno prossimo noi dovremmo avere, ecco, mezzi in più, dovremmo avere anche delle innovazioni tecnologiche. Uomini in più abbiamo i concorsi, i concorsi che noi contiamo subito dopo l'elezione perché il governo regionale ha deciso che il concorso che abbiamo già pronto per 46 agenti, che sarà poi in fase di sicuramente portato la dotazione allargata da altre persone perché pensi noi abbiamo bisogno di circa 800 agenti, quindi il concorso ha la copertura finanziaria iniziale per 46, negli anni contiamo, ecco, se c'è la volontà politica e le risorse finanziarie di portarlo a 800, quindi diciamo il concorso, poi abbiamo fatto anche altre attività. Quando scade questo concorso? No, già l'abbiamo fatto, le domande sono state fatte, le domande, quindi c'è solamente la fase dell'espletamento vero e proprio che contiamo entro l'anno di iniziarla, per poi negli anni, ecco, possibilmente tenere aperta la graduatoria ed attingere a nuove figure previa copertura chiaro finanziaria. Tutte cose tra l'altro necessarie, che diversamente il corpo forestale veramente subirebbe un grosso handicap, che tra l'altro voglio dire che noi non è che ci limitiamo all'attività intingendo, facciamo attività di prevenzione, facciamo attività per quanto riguarda le frodi, da lotti alle frodi alimentari, quindi siamo presenti, abbiamo fatto… Guardate anche lotta all'abusivismo, lotta all'abusivismo, la tutela del patrimonio naturale, non solo, voglio dire, per noi sono prerogative che sono alla base dei nostri compiti, tutto ciò va fatto sicuramente se abbiamo una macchina all'altezza della situazione. Con il nuovo governo contiamo molto di portare avanti questi temi. Io la avrò sicuramente ospite per qualche altra puntata, perché noi seguiremo questa vicenda anche per cercare di anticipare un po' i tempi se possibile, io davvero ringrazio Giovanni Salerno che è il dirigente regionale del Corpo Forestale, ringrazio davvero di averlo avuto ospite, aveva affrontato tanti temi e io vi auguro davvero una buona giornata. Grazie. Grazie.